Buongiorno, sono Salvatore De Caro di SAP Italia, sono il responsabile dell'iniziativa Next Gen University Alliance, il nostro programma di collaborazione con scuole e università e oggi sono qui all'Istituto Schiaparelli-Granci per lanciare la nuova iniziativa in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale sulle nuove tecnologie, l'innovazione e la digital innovation. È una collaborazione con Fondazione Mondo Digitale che va avanti da diversi anni e che ci ha dato molte soddisfazioni in passato. Anche quest'anno speriamo di avere un riscontro paragonabile a quello degli scorsi anni e forse anche migliore. Questa iniziativa servirà a diffondere fra i giovani questa idea che un futuro migliore è possibile e che la tecnologia e l'innovazione sono fondamentali, sono cruciali per questo miglioramento del nostro futuro.